Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, appena morta la nota giornalista Rai, in questo video parliamo di una grave perdita che ha colpito l'intero mondo televisivo italiano e prima di saperne di più vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 400 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo, in questo video parliamo di una notizia dell'ultima ora e di un grave lutto che ha colpito il giornalismo e la televisione italiana e con grande rammarico che il primo amico di Marco Liguori annuncia il decesso della nota giornalista Rai, Silvia Rocchi, aveva 57 anni, era stata giornalista RaiNews.it e aveva condotto anche il TGR regionale della regione Lazio, aveva condotto anche, buongiorno regione, il primo amico di Marco Liguori, con grande dispiacere, ricorda la giornalista Silvia Rocchi, scomparsa nelle scorse ore, a 57 anni, era una professionista capace di mettere cuore e passione, anche nella professione, facciamole più sentite condoglianze alla famiglia, che possa riposare in pace, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.